Public Engagement, impegno pubblico, Science Education, educazione scientifica, Open Access, accesso aperto alle conoscenze. Non sono più elementi accessori alla produzione di conoscenza, ma modalità innovative per fare ricerca e formazione per migliorarne l'impatto sulla società. Le università italiane però sono pronte ad attivare questa nuova dimensione di coinvolgimento. Come cambieranno la ricerca e la didattica? Quali strumenti sono già a disposizione per organizzare, valorizzare e valutare il Public Engagement? Se ne parla per due giorni, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre a Torino, per iniziativa di Agora Scienza, il centro interuniversitario per la diffusione e la comunicazione della cultura scientifica. L'obiettivo è di condividere e raccogliere in un documento programmatico riflessioni, esperienze e proposte di intervento, per avviare un processo di cambiamento culturale e organizzativo all'interno delle università, che devono istituzionalizzare le azioni di apertura e di dialogo verso la società già intraprese dagli Atenei e dai centri di ricerca. all'intervento... Grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.